1.200 metri di quota sopra il circuito del Mugello, meglio, sopra Scarperia, anzi, sopra casa Pizzo Scogliero, Borgo, circuito la Villa del Palacio giù è Monte Altuzio, da dove sono decollato sponzato adesso sono io perché va il cubolo sono in un più 0.2 che mi permette di godere il panorama che mi permette di godere il panorama